Ci sarà questa partita tra il Cosenza e il Siena per assegnare l'ultimo posto valido per la Serie B, ma in questi quattro giorni ci saranno mostre, convegni, dibattiti, si parlerà di calcio a 360 gradi. Noi si parlerà di calcio come contenuto, ma dobbiamo parlare anche di tanti contenitori. Noi abbiamo lanciato l'idea e poi lo verificherete, lo verificheranno tutti gli appassionati del calcio pescarese e non solo. Qui all'Aurum, all'Ex Aurum abbiamo allestito un progetto di comunicazione che sono tre espressioni per noi fondamentali e quindi ci ispiriamo ai valori. Noi stiamo creando dei contenitori, delle macro aree nelle quali dobbiamo operare per far sì che il calcio davvero cominci a diventare un nuovo umanesimo e quindi rappresenti il vero rinascimento del nostro paese. Presidente, possiamo dire che da oggi si inizia a lavorare, la Lega di Serie C inizia a lavorare anche per la prossima stagione, per il prossimo campionato, si guarda al futuro? Noi guardiamo sempre al futuro, la Lega è in continua evoluzione, una Lega in movimento, una Lega dinamica. Devo dire che in maniera molto scherzosa qualche giorno fa qualche mio collaboratore mi ha detto Presidente fermati, non riusciamo a seguire questo tipo di processo che è un processo sempre proiettato verso il futuro. Noi sappiamo, la nostra è una Lega che non è tra virgolette normale, non è ordinaria, la nostra è una Lega laboratoria, una Lega che deve sperimentare, deve provare di tutto. Non a caso la politica dei tre punti, la politica dei play-off è nata qui in Lega Pro e si sta evolvendo qui in Lega Pro. Quindi noi siamo la Lega dell'innovazione.